L'assessorato regionale alle attività produttive ha assegnato le agevolazioni a fondo perduto per oltre 30 milioni di euro a circa 1.700 imprese che fanno parte delle filiere produttive riconosciute dalla regione Sicilia. A beneficiare delle agevolazioni sono i consorsi, le società consortili, le cooperative e le reti di impresa collocate all'interno dei distretti produttivi che realizzano investimenti e spese per più di 34 milioni di euro. Gli obiettivi sono quelli di rafforzare la cooperazione tra le imprese che investono nelle infrastrutture digitali, oltre alla promozione e commercializzazione dei prodotti nei mercati esteri, la riduzione dei costi di produzione e una maggiore tracciabilità dei prodotti per aumentare il livello qualitativo delle produzioni. La concessione degli ingentivi, ha sottolineato l'assessore regionale alle attività produttive Mimmo Turano, è di fatto il coronamento del percorso di rafforzamento dei distretti a cui abbiamo lavorato in questi anni, un percorso che mira a trasformare semplici filiere di imprese in motori di sviluppo grazie a interventi strutturali di medio-lungo periodo.